Proteste da parte di alcuni esponenti politici del Terramano per la notizia relativa all'emendamento della legge di bilancio da 40 milioni di euro, presentato dal presidente della regione Marco Marsilio, relativa ad uno studio di fattibilità alla progettazione per la velocizzazione del tracciato ferroviario volto a promuovere un collegamento rapido fra Roma e Ascoli Piceno, passando per l'Aquila e Rieti. Vicenda che ha suscitato critiche da diversi livelli istituzionali, ma che hanno il medesimo allarme sul rischio di isolamento della provincia terramana e sulla scarsa considerazione che i vertici regionali le riservano. C'è chi parla di chiaro progetto politico volto a isolare Teramo, come l'assessore Verna, e chi accusa apertamente il presidente della regione di essere venuto in Abruzzo per perseguire i fini del suo partito, come il consigliere regionale di Abruzzo in comune, Sandro Mariani. Ancora una volta arriva una notizia shock, la provincia di Teramo tagliata fuori dalle strategie nazionali e regionali, naturalmente per colpa di un governo regionale, di una maggioranza, di un presidente di regione che dimentica Teramo. A questo punto non posso più parlare di errore, ma devo pensare che sia un'azione voluta. I 40 milioni di euro di cui abbiamo avuto notizia qualche ora fa, qualche giorno fa, che vedrebbero un progetto che mira la realizzazione di una ferrovia tra Ascoli e Roma, dopo la notizia ormai che circola da tempo di un potenziamento ferroviario tra Pescara e Roma, naturalmente taglia fuori totalmente Teramo dalle strategie di collegamento e soprattutto questa notizia arriva dopo che tante altre notizie vedono naturalmente Teramo mai finanziata. Quindi l'appello è ai consiglieri regionali di Teramo di maggioranza, che inspiegabilmente tacciano ormai da mesi e da anni, di avere uno scatto di orgoglio e di occuparsi tutti insieme, di occuparci tutti insieme nella nostra provincia, perché sotto il profilo sicuramente della viabilità, della sanità e di altri investimenti importanti che in questo periodo storico così difficile ci saranno, quindi di fronte a questa grande mobilitazione economica dobbiamo unirci e dobbiamo far sentire la nostra voce per non rimanere terribilmente indietro.